La gente da casa fa la differenziale e poi noi ce l'abbiamo. Certo, le persone fanno la differenziale giustamente? Sì, perché vuole che si mettono tutte le buste azzurre. Raccolta differenziata. Qui ci sono soltanto bottiglie in plastica, carta, cartoni. Questa è la raccolta differenziata del comune di Catale. Quindi finisce tutto nel compattatore. Un altro biumone. È un problema. Quello, paga, mi dunhello da'. Perdonviare il bucone per torre. Diolare il bucone. Sì, sì. Una bambina. Sì, sì. Diolare il bucone per torre. Sì. Non è vero. Ma. Ma.